Ecco, noi diciamo più comunemente i frati e le suore, anche perché credo che fino a non molto tempo fa in tutti i nostri paesi c'erano queste presenze, quelle delle suore direi in modo più continuativo, quelle dei frati quando passavano per la celebrazione, passavano per la predicazione, per le confessioni e anche in tanti momenti anche per la cosiddetta questua, che era uno dei motivi che aiutava appunto anche i conventi a vivere, i frati e le suore. Oggi in modo più solenne si parla di persone consacrate, dopo dobbiamo stare attenti perché alla fin fine consacrati siamo tutti, tant'è vero che abbiamo ricevuto il battesimo e la cresima che con quel sigillo dello spirito e quell'olio sulla fronte ci consacra proprio al Signore. Al servizio del Vangelo, al servizio della carità di Dio verso i fratelli. Però si usa così le persone consacrate, nel senso che ci sono alcuni che al Vangelo, alla Chiesa, ai fratelli, dedicano proprio la totalità in modo radicale della propria vita. Appunto i frati e le suore. E dite ma perché tira fuori i frati e le suore stavolta? Perché si è celebrata la giornata appunto dei consacrati, la giornata di queste vocazioni, come si usa dire, di speciale consacrazione. Non lo so se nelle nostre parrocchie se ne è almeno accennato. Anche perché questa giornata coincide con la festa della candelora. E quindi nei tempi il fatto della candelora, la processione con le candele, eccetera, direi che diventa un po' più immediato e visibile. E poi magari ci si dimentica anche perché è una giornata magari anche feriale, di questo motivo invece che è essenziale nella vita della Chiesa, che è la presenza e la dedizione di persone, sia maschi che femmine, appunto frati e suore, per la Chiesa, per le comunità e per il Vangelo. Don Giovanni, faccio una piccola parentesi a proposito di candelora. Perché in questo anno qui, anche forse queste occasioni tradizionali, penso alla candelora, le processioni, niente. San Biagio, Benedizione della Gola, niente. Queste tradizioni a proposito possono ancora essere significative, a parte quest'anno forse un po' umiliate da questo coronavirus, ma possono avere ancora un bel significato nella vita delle nostre comunità. Ma penso di sì, cioè quando una cosa esteriore viene portata via bisogna vedere il senso e la base da cui nasceva. Prima di tutto la Madonna Candelora nella liturgia si chiama presentazione del Signore al Tempio, cioè osservando la legge di Mosè nel Vangelo, c'è scritto per ben cinque volte, Giuseppe e Maria portano al Tempio il loro figlio Gesù per consacrarlo, diciamo, al Signore. E pagando anche una piccola taglia, perché erano poveri, ecco, due colombi, oppure portavano un agnello o un'offerta, perché quasi a comprare questo figlio dal Signore, perché ogni figlio appartiene al Signore, è dono di Dio. Quindi bisogna anche riscattarlo con una cifra. Quindi seguono la legge di Mosè e si presentano al Signore. Penso che ciascuno di noi ha bisogno di capire una cosa che non è nato a caso, che ha una vocazione, che ha una missione, e quindi partiamo un po' dal Signore per dar valore a questo gesto, seguendo anche quello che oggi il Signore attraverso la Chiesa ci dice. Difatti si portava anche una candela, oppure un cero, a indicare che dentro di noi si è accesa una luce, è la luce della fede. Quindi anche se magari non accendiamo dei grandi candelotti, però la fede, la consacrazione al Signore, il senso di appartenenza a una comunità, questi valori non vanno cancellati. Speriamo col tempo di poter manifestare ancora quelle che sono anche l'esteriorità, il far vedere, anche perché si stanno riducendo queste cose qua, proprio a fare un'inchiesta. Io domenica ho chiesto ai ragazzi, perché ho cominciato a farli venire un po' alla catechesi, come si chiama il Papa? Niente. Cosa vuol dire la parola Vangelo? Se hanno sentito ancora parlare della Madonna Candelora. Quindi se non le teniamo accese, spariscono da soli, perché sapere cosa fa l'Atalanta, o che tipo di cibo devono mangiare, o che sport praticare, o l'ultimo modello di cellulare, quello lo sanno. Ma le altre cose, c'è bisogno anche un po' di esteriorità, perché se no alla fine muore un po' tutto, quello che per noi era essenziale e che resta essenziale. Anche perché la Candelora, l'idea della Candela, viene proprio dal fatto che quando Gesù viene presentato al Tempio, è Simeone che lo prende tra le braccia, contento, e dice, luce per illuminare le genti. Ecco Gesù, che è questa luce che illumina il cammino. E il buon San Biagio, che diceva in fondo come il Signore si prende cura di noi, dopo non prende e non fa il mestiere dei medici, non fa il mestiere degli odontoiatri, nella fattispecie di San Biagio. Però il Signore, anche attraverso l'intercessione e i segni dati dai santi nel corso della loro vita, si prende cura di noi. Questo resta il fatto determinante anche nella varietà e nella modalità diversa con cui si possono interpretare certe tradizioni, che se intese bene, appunto sono segni di qualcosa di importante. Certo, se uno si ferma soltanto al segno esterno, non va lontano. Però ecco, direi che queste tradizioni ci stanno ed è bene anche tenerle in conto. Però adesso non vorrei perdere i frati e le suore, sennò magari ci scappano mentre noi andiamo dietro alla Candelora e a San Biagio. E allora parlando di frati e suore, la considerazione prima che possiamo fare è che tante sono desaparecinos. Cioè tanti ragazzi non sapranno neanche più quasi chi sono, perché nei nostri paesi queste presenze purtroppo rischiano di non esserci più. E questo direi la dice lunga, sul fatto appunto, tu dicevi il discorso educativo, educare a che cosa? Perché qui entra dentro il tema in fondo della formazione cristiana, che è una formazione ad essere tutti battezzati e quindi coerenti con il Vangelo. Ma poi la presentazione anche della diversità, delle possibilità di questo spirito di servizio di cui la vita di tutti deve essere ammantata. Beh, prima di tutto queste persone sono persone che sono innamorati del Signore. Tutti siamo innamorati però, loro in un modo particolare emettono anche dei voti, voti di povertà, di castità, obbedienza. Povertà dicono in un mondo dove valgono solo i soldi, noi diciamo che non è vero, viviamo del necessario. In un mondo dove tutto è sesso, baci, abbracci e tradimenti, diciamo che il nostro amore è il Signore, che seguiamo il suo tipo di amore che è dono. In un mondo di padri eterni dove tutti comandano, basta accendere la televisione, diciamo noi obbediamo al Signore e questa cosa, quindi questi voti, vengono di solito pronunciati solennemente o di fronte a un superiore o una comunità o di fronte alla Chiesa e si impegnano a viverli temporaneamente, qualcuno un anno, cinque anni, o per tutta la vita. Quindi sono innamorati del Signore e il Signore dice, quello che dovete fare a me, fatelo agli altri. Ecco allora anche l'impegno nel mondo e nella Chiesa secondo vari carismi, perché poi carismi sono i doni, vari, chiamare i vari fondatori, ha sottolineato perché possano portare cose belle all'uomo di oggi. In effetti se guardiamo la storia della Chiesa, veramente questi ordini religiosi, questi istituti appunto di vita consacrata sia maschile che femminile praticamente hanno fatto un sacco di bene prevenendo anche quello che poi giustamente hanno preso in mano magari altri, le amministrazioni pubbliche, lo Stato, eccetera. Ma se pensiamo nel corso della storia tutto quello che è cultura, cura della salute, cura delle persone, attenzione alle povertà, praticamente si è sviluppato nella Chiesa da parte di tutti, per carità, perché ogni parrocchia cercava un po' di fare il possibile, ma specificamente, e ciascuno magari con un carisma appunto particolare, queste organizzazioni e questi istituti religiosi. Se studiassimo un po' la storia, perché ci sono anche degli errori che noi abbiamo fatto, ma quante cose belle. Ad esempio noi leggiamo i libri degli antichi perché c'erano i frati che li hanno copiati, copiati i frati amanuensi. Usiamo certe tecniche ancora oggi nell'agricoltura perché queste persone consacrate hanno studiato e hanno verificato come coltivare e far crescere i prodotti necessari all'uomo nel mondo. Pensiamo nelle nostre parrocchie quelle che sono state le suore consacrate. Adesso non ci sono neanche più, mi ricordo quando ero all'Aglio, un giorno ero lì all'oratorio, arriva un ragazzo e mi dice Don Giovanni c'è in chiesa una musulmana. Vado là, non era una musulmana, era una suora. Non li conoscono neanche più, quindi praticamente le suore. Ma poi a volte anche persone proprio che si consacravano al Signore. Mi viene in mente una consacrazione che le angeline che erano nel mondo praticamente seguivano il carisma di Sant'Angelo ma aiutavano le famiglie, aiutavano le parrocchie, ma anche nelle cose così lavar le tovaglie, far meditazione, non so, pensare a quelle che erano le processioni, le manifestazioni esterne. Oggi anche il volontariato mancando queste congregazioni è diventato raro e qualche volta senza fare così adesso delle cattiverie. Più che volontariato è lavoro nero perché se non gli dai qualcosa non li vedi più, non li vedi più. Quindi è una consacrazione al Dio denaro o al Dio farsi vedere. Non so, dici, ma perché è venuto al funerale? Era un mio cliente, perché non potrò mancare al funerale, è un mio cliente, ma non c'è la consacrazione al Signore, al suo amore, al senso di fratellanza. Siamo molto lontani e dovremmo un po' pensare a queste cose qui, a queste giornate. Ecco, se pensiamo, gli asili, le case di riposo, gli ospedali, sono tutti nati proprio dal cuore di persone che hanno consacrato tutto se stessi al Signore nel servizio ai fratelli. Oggi ovviamente le cose cambiano e di fatti cercano anche a questi istituti di intercettare quelle che sono chiamate le nuove povertà, le situazioni di disagio che purtroppo questa nostra società ha creato in un modo diverso. In questo senso però torno un attimo al fatto dell'educazione delle nuove generazioni, perché in effetti non ci sono frati e suore o ce ne sono pochissimi, forse perché nessuno presenta neanche ai ragazzi e ai giovani queste opportunità, queste progettualità anche di vita che hanno come comune denominatore il servizio, educare al fatto che la vita non è per sé ma è per Dio e per gli altri ed è il modo migliore per realizzare poi anche se stessi. Ma questo appunto direi che forse andrebbe un po' recuperato anche nelle case, nelle famiglie, questo aiutare mettendo sotto lo sguardo però tutto il ventaglio delle possibilità, soprattutto nella vita di società ma anche nella vita della Chiesa. Nelle famiglie e anche nei preti però dobbiamo stare attenti a me che ti dico che ho detto a una ragazza che mi sembrava così che si impegnava cioè veramente gli ho detto non ti piacerebbe diventare suora vedo che per due o tre mesi non mi saluta più ma perché lei mi ha detto che devo diventare suora non ti ho detto che devi potresti quindi probabilmente l'educazione ma poi anche il fondo il presentarsi di questi consacrati al mondo in una maniera moderna io direi che certi vestiti certi modi di fare anche di suore frati e così dovrebbero lasciarli da parte perché un giovane quando ti vede vestito così o con quel modo di fare dice io semmai fondo un ordine nuovo ma non vado con questi qua difatti c'è tanta gente che oggi fa del bene ma non vuole essere etichettato tra virgolette ma essere messo dentro lì perché a volte anche questi ordini qua devono un pochettino aggiornarsi usiamo questa parola laica cioè stare un po' perché i giovani cambiano vedendo persone che possono essere da loro imitati se no se uno si presenta che le fa del monte ma addirittura quello lì lasciamo perdere e si ferma tutto lì beh in effetti però anche il fatto l'interrogativo che dovrebbe correre nella famiglia nei luoghi educativi soprattutto delle comunità cristiane non semplicemente il fatto di dire cosa vuoi fare da grande che cosa ti piacerà dove pensi che potrai guadagnare di più ma la domanda fondamentale che progetto ha il Signore sulla tua vita cosa pensi che abbia Dio da offrirti perché la tua vita possa essere significativa e non c'è bisogno di mettere in piedi chissà che cosa nella semplicità appunto nell'umiltà ma partire dal sogno e dal disegno di Dio sulla tua vita per cui noi siamo chiamati a interpretare questo disegno allora siamo sicuri di prendere la strada buona la strada giusta la strada che ci fa anche felici questa frase non ricorre tanto nelle nostre case e andando ancora più a fondo Don Leone perché tu dici delle cose bellissime io parlo un po' in bergamasco dico così che se non c'è la farina non si può farla pulenta cosa intendo dire che adesso famiglie al massimo un figlio io vedo la mia parrocchia guardavo i registri 60 70 l'anno scorso 10 cioè quando hanno lì un figlio probabilmente dicono un po' viene su anche un po' viziato poi dicono guarda che devi fare questo e questo perché se no falisce la ditta falisce non c'è neanche una proposta e tantomeno poi il sogno di Dio su questo regalo perché ogni persona è un regalo che Dio fa all'umanità per il bene dell'uomo li inquadrano quei pochi che riescono a sopravvivere li inquadrano dentro a fare delle cose che possibilmente rendono e che si lavori poco e che si facciano tanti soldi non sapendo che questo è la base dell'infelicità è la base del non star bene perché quando uno pensa a se stesso il grande segreto è proprio questo qui tu stai bene se farai del bene se riuscirai a far felice qualcuno sarai felice anche te invece oggi no no fregatene e naturalmente come si fa penso che se andiamo avanti così l'estinzione è quasi sicura e loro dobbiamo essere grati intanto a frati e suore veramente per il loro servizio mi viene da pensare nella tua vita la figura di un frate non tanto di un sacerdote in questo caso che pure è determinante nelle nostre parrocchie ma di un frate o di una suora te la porti anche tu questo ricordo? io posso dire una cosa nei miei 46 anni di prete ho avuto 20 sacerdoti 3 suore e 2 frati l'ultimo è di gorno per dire quindi sono e poi devo anche dire vado a confessarmi dei frati io mi sono sempre trovato bene e li apprezzo tantissimo anche per questo periodo poi quando vai anche qui nella nostra diocesi vedi sti frati che confessano pregano è una fila di gente che va là a cercare da mangiare e loro ci sono perché il governo italiano se non avesse queste persone non so dove andiamo a finire quindi io li apprezzo tantissimo ne ho tanti nella mia mente non parliamo poi quello non lo so tanto cosa fanno nel mondo missionario in terre lontane però io vedo quello che fanno qui quindi sono persone preziose e speriamo che il Signore ce ne regali ancora di queste persone consacrate certo che mi viene il dubbio che vai a confessarti dai frati perché dicono che hanno le maniche larghe una volta si diceva così attento Don Giovanni tra l'altro queste forme anche di vita religiosa e consacrata oggi ne sono nate anche di nuove proprio per rispondere a delle esigenze e a delle modalità anche diverse e diverse sensibilità anche di questo nostro tempo la Chiesa veramente nei tempi andati oggi è ricca di queste proposte certo bisognerebbe appunto che queste proposte fossero conosciute che queste proposte di vita e di consacrazione venissero presentate come fatti positivi per la vita perché tante volte appunto come dicevi proponi a un ragazzo una ragazza quasi quasi ci resta anche male o pensa che gli stai proponendo qualcosa di fuori di testa mentre nelle proposte della vita e che fanno bene alla vita tra le altre e soprattutto in una visione di Chiesa in un contesto di fede la proposta anche della consacrazione religiosa direi che è uno dei progetti veramente belli che il Signore ci mette davanti e che la Chiesa valorizza in tanti modi anche in questo nostro tempo e allora mentre ringraziamo appunto tutti quelli che anche nella nostra vita abbiamo incontrato e quindi li affidiamo al Signore se sono già nell'eternità ma quelli che già ancora tra noi vivono operano con tanta generosità con tanta dedizione al servizio di Dio ma al servizio dei fratelli con questo senso di gratitudine preghiamo anche perché il Signore chiami ancora ma probabilmente il Signore chiama non è diventato muto il problema è se c'è qualcuno che l'ascolta se ci sono persone che accolgono la sua voce e se c'è ancora una generosità del donarsi in spirito di servizio come dice Gesù come ho fatto io fate anche voi al servizio del Padre al servizio del Vangelo al servizio dei fratelli è la vita di tutti ma diremmo in modo forte la vita dei consacrati frati e suore grazie Don Giovanni della tua testimonianza grazie a voi che ci avete seguito come sempre l'augurio di una buona domenica grazie a voi